La transizione energetica tra tecnologia ed uguaglianza sociale. Sono relatori di qualità. Cerchiamo di cogliere l'importanza di questa tematica perché l'aggiornamento nei confronti di queste situazioni che devono essere colte con pensosità e intelligenza è un plus valore per ciascuno di noi. Lascio dunque adesso la parola al maestro Supancic che presenterà i pezzi musicali e poi l'ingegner Gerin presenterà i nostri illustri relatori che ringrazio a nome della Diocesi e anche a nome dello Studium Fidei e della Commissione del Lavoro e dell'ecologia della nostra Chiesa perché hanno accettato di istruirci su questa tematica importante ed anche una tematica diciamo di attualità. Buonasera a tutti. Vi suonerò il primo movimento della partita in sì minore di Johann Sebastian Barr e poi nell'intervallo il secondo movimento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.